Tra i banchi della scuola più famosa della televisione, sto parlando del talent, amici di Maria Di Filippi ne succedono sempre, ogni giorno. E noi siamo qui quasi ogni giorno a darvene conto. Oggi parliamo di un artista che si sta mettendo in evidenza, ma per tutti i dettagli aspettate un attimo che c'è la sigla. Sono Alex Lanieri e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Bentornati nel nostro podcast, oggi vi raccontiamo un cambio di rotta importante avvenuto nel roster di Amici 24. Protagonisti di questa storia sono Diego che lascia ufficialmente la squadra di Rudy Zerbi e Antonia, la nuova entrata che prende il suo posto. Un cambio che non è privo di emozioni, riflessioni e qualche sorpresa. Quindi oggi puntata TG Kiwi talent a tema Antonia. Durante l'ultima puntata del pomeridiano Zerbi ha proposto la sostituzione di Diego con Antonia, giustificando questa decisione con la necessità di garantire alla sua squadra il miglior talento possibile. Diego si è esibito in due brani che hanno messo in luce il suo miglioramento. Tu non mi basti mai di Lucio Dalla e Tasche piene di sassi di Lorenzo Giovanotti. Antonia invece ha risposto con Blue, un brano di Arcomi ed Elisa e poi anche un'intensa performance in inglese di cui vi dico tra pochissimo. Quindi sicuramente siamo anche in una fase dove i vari coach cercano di mettere insieme una squadra che lasci il più possibile il segno. Lo vediamo anche nel talent di rimpetto che è appunto X-Factor, di cui anche noi di TG Kiwi ci occupiamo abbondantemente. Quindi nonostante le lodi per il progresso mostrato da Diego, Rudy ha spiegato che il format gli permette di introdurre nuovi talenti e che questa è una responsabilità che sente di dover esercitare. Ecco quindi un po' quello che dicevo prima. L'eliminazione non è stata definitiva però, attenzione, perché Zerbi ha lasciato la porta aperta alle colleghe Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quindi dando loro la possibilità di accogliere Diego nelle loro squadre. Quindi non è ancora finita per il buon Diego. Antonia, alla sua prima gara nel pomeridiano, giudicata da Carlo Verdone e Tananai, ha dimostrato immediatamente il suo valore. Con una versione emozionante di People Have the People, si è classificata seconda, conquistando il favore dei giudici. Tananai, in particolare, si è complementato con lei, riconoscendo la qualità della sua voce e apprezzando la sua interpretazione. Antonia rappresenta una figura interessante in questa edizione, non porta con sé il peso di essere figlia di qualcuno, ma porta il suo talento naturale. Lei ha circa 2000 follower su Instagram e 15.000 su TikTok, quindi ha già conquistato una piccola ma affezionata fanbase di tutto rispetto. Non ha ancora l'attivo singoli o progetti discografici, ma la sua grande voce e la guida di Rudy Zerbi potrebbero portarla lontano. E noi di Kiwi, ovviamente, glielo auguriamo dal profondo. La sfida per lei sarà trasformare quel talento grezzo in qualcosa di credibile e competitivo dal punto di vista discografico. Restate sintonizzati con noi per seguire l'evoluzione di Diego, Antonia e di tutti gli altri protagonisti di questa appassionante edizione di Amici, che ogni settimana ormai ci regala storie, sorprese e nuovi capitoli di un percorso artistico che non smette mai di annoiarci. D'altronde sono ormai quanti anni, tantissimi, che amici ogni anno oltre a sfornare degli artisti che poi anche da parecchio tempo ci accompagnano, nelle radio, nelle classifiche. Penso a Annalisa, ad esempio, che ultimamente ha ricevuto a livello europeo un importante, importantissimo direi, riconoscimento. Quindi vi chiedo, magari commentate sul nostro canale YouTube. Vi ricordo che infatti TG Kiwi, oltre ad essere un podcast disponibile su tutte le piattaforme digitali, è anche un canale su YouTube. E quindi commentate ogni nostro episodio. Proprio su questo vi chiedo qual è il vostro artista preferito uscito finora dalla scuola di Amici? Io ho già un nome, anzi più di uno. Diteci il vostro, magari con un commento e magari anche lasciate un piccolo pronostico su quello che secondo voi potrebbe essere il vincitore o la vincitrice di questa edizione. TG Kiwi vi accompagna anche su TikTok, c'è il magazine con Chiara e appunto, come vi dicevo, continuate ad ascoltarci sulla vostra piattaforma digitale preferita, perché noi parliamo di talent, ma anche di musica e di cinema. Damiano Extranieri, un abbraccio e a presto e state sempre molto bene. Ciao!